amici di milan.soccer eccoci con il sorriso sulle labbra oggi mi sento particolarmente rilassato sì perché prima di andare a cercare notizie sul nostro milan che spesso ci agita ho fatto un po di meditazione se ho fatto la meditazione capita guardate un po link in descrizione è un canale youtube che vi consiglio voi cliccate scegliete il vostro tipo di meditazione tutto gratuito è così vi abbandonate un po al sogno di chi eravamo o magari al sogno di chi saremo speriamo che non sia un incubo prima di cominciare come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qui fatelo è gratuito anche questo è tutto gratuito è un bel pollicione un like a questo video allora allora a proposito milan punto soccer punto official chiocciola gmail.com metteteci la faccia aspetto ancora i vostri video ne sono arrivati alcuni molto interessanti però mi raccomando continuate a mandarli semplice fatelo in verticale lo spedite all'indirizzo che ho detto parlate del milan di ieri di oggi di domani presentate il vostro milan club la vostra attività commerciale il vostro canale youtube e io ecco do spazio vi metto negli short non fatevi più vedere lo so lo so lo so avete visto la copertina non fatevi più vedere è una cosa che mette un po i brividi però questa volta possiamo stare tranquilli perché in effetti in effetti diciamolo questa volta al milan è andata veramente bene e non ve lo dico solo io ma ve lo dice qualcuno di molto speciale che ultimamente sta venendo a trovarci spesso ma lei deve stare in redazione a no mi guardi così lei deve stare in redazione si deve occuparsi della redazione dei pezzi vabbè resti vuole scendere scenda beh perché non fatevi più vedere il titolo del corriere adriatico ieri vi ho parlato di ancona qualcuno mi ha detto ma perché sei di ancora non sono di ancona no non sono di ancona ma ancora in questo momento non perché prima mi fosse antipatica ma adesso mi è particolarmente simpatica il corriere adriatico titola non fatevi più vedere così questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna del corriere adriatico di ancora dopo il caos relativo all'iscrizione dei giorni scorsi un piccolo preambolo ed una premessa il milan non è che si fosse preparato per l'under 23 senza avere la certezza di un posto tra le squadre di serie c è così che funziona è sempre andata così è sempre andrà così non c'è la certezza però ogni anno capitano squadre che non si iscrivino al campionato è sempre successo quest'anno c'era il rischio che non accadesse invece all'improvviso beh il verona che essi scusatemi l'ancona e mi dispiace per gli amici anconetani sia molto chiaro perché poi l'ancora ha comunque un bel tifo gente passionale però questa volta è l'ancona purtroppo per loro a non farcela secondo fonti interne del comune non esiste traccia del bonifico decisivo per l'iscrizione perché era accaduto che poi alla fine per il pagamento dei vecchi stipendi l'ancona avesse diciamo fatto il bonifico e quindi sarebbe andato tutto a posto anche se fuori tempo in realtà fanno sapere proprio fonti interne al comune che non esiste traccia di quel bonifico dunque in effetti l'ancona al 99 per cento virgola 99 e fuori dal campionato di serie c e a questo punto tocca al milan è un investimento pensate di 12 milioni di euro sì proprio 12 milioni di euro è una svolta una svolta importante perché sono diversi anni che il milan si prepara a questo debutto a guidare la squadra che vedrà parte dei giocatori campioni d'europa tra cui appunto camarda liberali e tutti gli altri insomma che conosciamo un po meno bene di quelli titolari della prima squadra ormai sono entrati nel nostro quotidiano beh saranno loro a fare questo campionato io ieri ho detto nello short in cui annunciavo il milan campione d'europa la nazionale under 23 campioni d'europa grazie ad un grande camarda non azzardatevi a metterlo nella squadra di serie c sì non lo so non lo so però a me quello che dà fastidio è l'articolo ancora una volta del giornale la gazzetta dello sport perché dice cosa manca sulle orme di holland cosa e cosa non ha per poter puntare già al vertice camarda non ha nulla che non possa camarda solo un limite e che è nato in italia e noi in italia siamo sempre così molto resti non è un paese per giovani l'italia non è un paese per giovani un calciatore che ha già dimostrato di poter giocare in serie a che non è più quella degli anni 80 una serie a che oggi ha grossi limiti è una nazionale maggiore che non ha praticamente attaccanti se non que come dice sacchi abbiamo preso uno che alla fine ha fatto tre gol e allora perché no perché no la domanda è perché no perché si brucia questa è una frase fatta e sulle frasi fatti si sono fondati più grandi fallimenti economici e sociali allora per una volta per una volta con le ingiuste misure ci mancherebbe altro cerchiamo di dare valore perché poi alla fine che ambizione può avere l'under 23 non ha un'ambizione di crescita cioè al massimo può raggiungere la serie b perché poi non potrà mai per regolamento andare in serie a il fine è quello di essere molto vicini alla prima squadra il fine è quello di far crescere giovani ma per una volta probabilmente e non è la prima perché lo abbiamo già ricordato tante tante volte con mancini piuttosto che bergomi piuttosto anche lo stesso baresi cioè i giovani ad un certo punto ce la fanno cioè riescono alcuni a maturare prima staremo a vedere diciamo così quello che succede la squadra lo sappiamo è in mano in mano a bonera per cui adesso vedremo nelle prossime ore che cosa succederà perché il milan tra l'altro è un è una squadra che in questo momento sta e ancora alla ricerca dei suoi attaccanti e conte lo ha già detto ieri sta facendo quello che avrebbe voluto che avremmo voluto noi tifosi al milan e cioè sta costruendo una grande squadra si sta parlando davvero di giocatori importanti tra l'altro sta cercando di convincere sia di lorenzo che osimena a rimanere mentre il milan è ancora come dire incagliato su questa idea di zirgzè e di un'eventuale alternativa che per il momento è lukaku in prestito poi tanti nomi si stanno facendo però in effetti c'è da dire che noi abbiamo bisogno di poter di poter avere quanto prima al qualche certezza siamo ormai al 6 giugno e noi non abbiamo nessuna certezza né in panchina né per quanto riguarda i nomi delle squadre qualcuno dice sì in effetti però chi ha chiuso la juve che ha chiuso il napoli ma andate a vedere le dichiarazioni i loro dirigenti parlano al napoli ha parlato dell'aurentis ha parlato conte alla juventus ha parlato giuntoli parlano all'inter ha parlato marotta hanno parlato gli altri dirigenti al milan non parla più nessuno io non so nemmeno se ci sono ancora questi signori e allora siamo rimasti un po così appesi ci dobbiamo in qualche modo pregiare di poter esultare per un mondiale un europeo under 17 per un camarda che comunque questa è la grande notizia ha praticamente chiuso l'affare firma per il milan grazie camarda per non esserti donna rummizzato davvero grazie perché sarebbe stata l'ultima goccia e poi il vaso chiaramente sarebbe caduto a terra e allora io spero che nel prossimo collegamento avremo già qualche informazione un po più di dettaglio ma adesso godiamo almeno di qualcosa di molto positivo il milan si iscrive dunque con la squadra under 23 alla serie c camarda firma per il milan non ha bisogno di fare nessuna esperienza in altre squadre probabilmente qualcosa farà con l'under 23 ma mi auguro che possa essere diciamo così un giocatore già in prima squadra perché per me è pronto fatemi sapere cosa ne pensate ci vediamo più tardi e vi voglio bene ciao